buonasera a tutti oggi in studio due amici con i quali parleremo di vari argomenti parleremo di arte ma anche della visita del papa a palermo che è stato un evento meraviglioso ne parleremo appunto con danilo maniscalco l'architetto danilo mariscalco simpatizzante dei verdi dei cinque perché no e con carmelo sardegna responsabile regionale coordinatore regionale dei verdi sicilia e allora danilo partiamo da te perché sei stato tu che mi ha dato lo spunto io mi lascio sempre tradire a quest'amore dell'arte quando tu mi mi solleciti immediatamente rispondo tu porti avanti un progetto per la rivalutazione salvaguardia promozione delle opere del basile a palermo tu ritieni che il basile a palermo non sono considerate nella giusta misura quindi questa tua azione devo dire meritevole tu vorresti che fosse accolta da tanti altri per dare il giusto merito appunto a questi grandi dell'architettura palermitana dico a che punto siamo sono ancora immobili sono abbandonati il comune non fa nulla la soprintendenza non si muove la regione non dà segnali beh in realtà qualcosa di positivo per lo meno c'è ci sono delle note positive ma è la prima che negativa è quella che del loro non sono per niente come dire la figura di ernesto basile di giovane bassista basile non è per nulla valorizzata ma non c'è nemmeno un progetto da parte delle istituzioni locali per farlo di contro dobbiamo dirlo ed essere orgogliosi il 20 novembre di quest'anno saranno passati i cento anni dalla prima seduta al parlamento nazionale a roma palazzo mente cittorio un progetto realizzato da ernesto basile nel primo ventennio del novecento ed è un orgoglio palermitano perché il parlamento di roma è l'unico parlamento di una repubblica europea ad essere in stile ar nouveau liberty modernista e lo fa ernesto basile ci si aspetterebbe di contro quindi che la città che gli ha dato i natali dopo ne valorizzasse la figura non tanto non solo principalmente per questo fatto ma perché la genialità creativa dell'architetto basile si innesta il valore di basile è universale universale e non è contestato in nessun modo si innesta all'interno del dibattito culturale europeo di quei decenni come cardine cioè le scuole di architettura gustavo giovannoni dirà a un certo punto che le scuole di architettura più importanti di quel periodo in europa sono quelle di stoccarda con con teodor fischer quella di vienna con otto wagner quella di palermo con ernesto basile e i quali daranno ai loro allievi le capacità di portare in nel nostro caso in tutta la sicilia e in tutta italia il il lessico del maestro noi siamo un popolo strano popolo siciliano e palermitano in particolare noi non curiamo molte volte quelle che sono le nostre bellezze appunto artistiche culturali anche naturali e quindi aspettiamo che siano altri abbiamo questa cosa di colomba predisposizione al degrado ad abituare inerzia non lo so ma pure dicevate prima che iniziasse la trasmissione si scoprono a palermo sempre cose nuove ogni giorno stavi dicendo camminavo alla villa bonanno con pipillo il mio cane adoratissimo e ho inciampato su un pezzo di di terracotta fite che fa parte sicuramente di qualche tomba per io la cala è chiaramente che è identico a quello che tu trovi anche e all'interno del del museo archeologico ecco meroma che dovunque si scava si trova sempre qualcosa e quello che voglio dire lui ha ragione non c'è niente di fare ha ragione e devo dire che l'architettura comunque il segno il il la visione di un mondo che stava cambiando del basile non è cupo come quelli del nord europa non è occupo perché è più solare d'altra parte il sole allo stile e poi anche la nostra la nostra il nostro mondo la nostra cultura la nostra storia che una storia plurimillenaria rispetto a qualcuno che vede ovunque basta che uno cambia di colore vede un nemico e io gli voglio dire ma occupate della mafia ministro del dell'interno dell'interiore a come lo chiamo io avanza occupate delle delle dei mafiosi che devastano il territorio siciliano e quindi è attinente poi voglio dire già 30 anni fa io ero a codroipo e c'era nella villa manin ancora vivo l'ultima rede dei manini dei doji c'era una grande immensa mostra su victor orta che è un grande ma di fronte al basile non dico inferiore però basile e di grande respiro e allora un pensiero cioè noi dobbiamo andare a fare ragionamenti io voglio incontrare questo è l'assessorato regionale perché intanto trovo che non sono diciamo integralisti ma sono dei moderati a mi piace quest'idea di parlare discutere con i moderati che sono stufo dell'estrema sinistra sono stufo dell'estrema destra noi quindi anche a roma ultimamente con questo grande ritorno di tanti personaggi attivisti ma che erano andati a finire ahimè con 5 stelle delusi stanno tornando devo dire che si è ritrovato un clima ma è un clima in cui bisogna dire signori me qua c'è l'oscurantismo e allora facciamo un fronte comune facciamo un fronte di persone illuminate e quale cultura deve fare la sua parte ci sono dei valori come questo appunto della cultura dei beni culturali come anche dell'ambiente che secondo me non deve avere un colore politico deve essere veramente un impegno da parte di tutti per far sì soprattutto a palermo si è tutto quello in sicilia e tutto quello che c'è di positivo venga esportato all'estero in modo da attrarre turisti ma anche ricchezza perché c'è niente richiesta e posso dire ancora qualche cosa voglio dire questo è il bene comune che la cultura nostra è millenaria su questo non c'è più però bisogna anche incominciare a pensare che il 60 70 per cento dell'edilizia nazionale perché altrove costruivano e costruiscono in un'altra maniera è sul cemento armato come abbiamo visto il ponte con abbiamo visto gli altri ponti come abbiamo il cemento armato a un certo punto collassa e allora possiamo incominciare a pensare a un grande piano che darebbe lavoro a centinaia di migliaia di architetti muratori artisti e per evitare anche disastri di vedere come risolvere risolvere questo grande problema che ci verrà ci verrà sicuramente sarà siccici verrà posto dalle esigenze della verità va tutto allora su questo bisogna bisogna proprio io sono questo andiamo parliamo non sono un integralista io sono un aperto apertissimo perché ho avuto una grande formazione culturale dalla scuola fino fino ad oggi fino ad oggi con lui con te eccetera quindi vediamo un attimo di di prevenire i disastri bisogna prevenire purtroppo poi interviene la politica e quando ci sono i tempi della politica non sono uguali a determinati però possiamo farlo con anni di anticipo intanto il fatto che i verdi in questo caso rappresentati da te mostrano una sensibilità non so perché molte volte quando si parla dei verdi si pensa solo che verdi si interessino solamente dell'ambiente ma tutto considerando il fatto sulla foglia no sulla pampina solamente come ci vuole infatti non è che avete preso l'edità siamo stati dalla vecchia edera repubblica siamo stati un ragionamento ad ampio respiro in prima linea per tentare di non far abbattere gli alberi a palermo quindi siamo ci siamo scontrate con l'amministrazione ci sarebbe da aprire da aprire però dico oppure l'assessorato e beni culturali e ambientali allora bisogna che l'assessorato regionale non so se l'hanno modificato però prima era beni culturali e ambientali perché il ragionamento deve essere complessivo che ci sia una sensibilità da parte delle forze politiche questo verso questi argomenti è molto importante però ritornando al basile io sai perché l'ho sempre considerato al di là delle sue notevole capacità veramente qualche cosa di particolare per cui perché lui riesce ad inserirsi nel contesto palermitano già dove sono presenti tanti altri monumenti che hanno delle caratteristiche precise san giovanni degli eremi la cattedrale cioè noi passiamo da diciamo un genere architettonico ad un altro e quello del basile riesce ad integrarsi in maniera estremamente positiva in questo contesto culturale nostro d'accordo che parte da lontano chiara di sciara finisce e invece noi osservando l'opera del basile la riteniamo gradevole di fronte a quello che è vecchio tra virgolette è quello che è nuovo pure paradossalmente l'opera del basile finisce per essere un tutt'uno anche con la nuova realtà palermitana si inserisce praticamente nella nuova edilizia palermitana in maniera così talmente posso dire soave talmente sostenibile sostenibile talmente geniale che ti fa capire che siamo di fronte veramente a al grande come papa francesco perché ora vi dirò mi è apparso questo gigante però purtroppo non so se riuscirò a parlare perché mi commuovo il intanto il papa solo il papa non so se siete d'accordo ha fatto un grandissimo miracolo ha fatto sparire la spazzatura dalla città radica al di là di questa era ma non ci erano mai poi considereremo diciamo un papa al giorno leva monnizia di torno è incredibile però tu hai colto in realtà hai disegnato come dire gli elementi di un grandissimo maestro che noi continuiamo a calpestare perché mi piace molto quello che hai detto rispetto all'architettura che si fonde si fonde col contesto perché quello che per esempio aveva già in testa diciamo la presenza multiculturale nel campo artistico e su questo contesto ha ideato tutto il gesto ma lui ce l'ha proprio nel dna perché riesce a prendere elementi per esempio dell'architettura gotico catalana di carnivari e fonderle col floreale del liberty e far venire fuori per esempio oltre l'architettura funeraria che è un capitolo straordinario di cui dovremmo parlare nel villino florio nel villino florio all'olivuzza spicca questa questo essere medievali fusi a liberty e noi che cosa ne abbiamo fatto noi lo continuiamo a calpestare perché abbiamo per esempio questo straordinario edificio che l'hotel borsa oggi a piazza borsa di rimpetto per quanto sia di un periodo magari poco apprezzato ma c'è un'architettura littoria importante che è di un allievo di ernesto basile giuseppe salvatore canonia roberti noi che cosa abbiamo fatto nell'ottica di quello che dicevi tu abbiamo non l'abbiamo realizzato noi ma il comune ha realizzato un bruttissimo intervento di piazza nella piazza con un cemento che non lega con nessun altro materiale e non tiro di più non ha proprio capito le istanze di questi grandi progettisti perché anziché fare un concorso invitare i miei architetti a cimentarsi per costruire uno spazio che legasse insieme questi due grandi capolavori dell'architettura palermitana e italiana realizza un intervento improprio non sostenibile brutto che testimonia il modello palermo sulla progettazione poteva sentire l'università di palermo poteva fare tante cose perché devo dire diciamo voglio spezzare una lancia a favore del comune di palermo perché in effetti la quel contesto con il nuovo col palazzo che c'è del banco di sicilia si trovava di fronte a due strutture architettoniche completamente importanti importanti ma contrapposte quindi andava bisognava fare una scelta precisa non so che scelta poi hanno fatto perché io non so giudicare il tipo di intervento di cui tu mi parli poi l'ho guardato così velocemente non mi sono sopra asfaltato di nero però dico le basole avevano una dignità però ti dico in effetti il contesto è particolare perché ci troviamo con la costruzione appunto del basile serviva un maestro anche appunto non era una cosa da scuola elementare praticamente questo poi il contesto importante se consideriamo che questa zona sarà rivalutata con l'andare del tempo perché se si pensa di per analizzare tutto corso Vittorio Emanuele è chiaro che questa è una delle valvole di sfogo come anche piazza marina di questa zona è una brutta cicatrice in questo doveva essere tenuta in così però penso che si possa rimediare quando ci sarà fortunatamente sì si potrà rimediare basta solo la volontà politica l'intervento è superficiale non ci sono interventi particolari la Palermo che aveva la città le strade marmore come Corso Vittorio pensavo oggi no ma pensavo oggi via Roma che è stata coperta perché c'erano tutti i sanpietrini poi è stata asfaltata perché fanno prima una piccola polemica se l'avessi fatto io questo intervento non so come sarebbe ti avrei fatto arrestare io esatto invece non succede niente posso chiusare pensa che io da ragazzo mi fu regalato il progetto del Teatro Massimo che è un librone così con disegni con le gare perché facevano le gare concorsi i concorsi facevano anche le gare per a chi affidare chi vincere l'impianto elettrico eccetera e mi ricordo parlando con un signore che mi disse guardi questa foto quasi che era una foto era insomma una specie di litografia vede questa questa è la prima gru utilizzata a Palermo così mi disse così ripeto infatti c'era per costruire il Teatro Massimo quindi il Liberty utilizzava anche quindi il Basile utilizzava anche le innovazioni tecnologiche perché utilizzando questa gru praticamente i grandi massi venivano alzate e spostate con facilità e si rispermiò non so quanto quanto tempo per la realizzazione nonostante le interruzioni ma come immagina se l'avessero avuto i faraoni a tempo degli egiziani una gru che cosa avrebbero realizzato e poi insomma vedi io non utilizzano sfruttano i monumenti sfruttano ecco questo è carenza di cultura di formazione e c'è il tronaggine di chi amministra non sa che la polemica purtroppo la dobbiamo fare perché l'ho sempre fatta ma non perché diciamo per spirito insomma di contraddizione di polemica no perché critico me stesso che non ho capito che cos'è manifesta manifesta non sei solo io non nascondo questa perché io pensavo che un evento del genere come l'esposizione nazionale poi lasciasse a Palermo dei segnali tali per cui dice c'è stata manifesta e quindi fra 20 anni 25 anni mia nipote avrebbe visto i risultati di quello che aveva lasciato manifesta io non l'ho capita che cosa vuole essere ma so che hanno riaperto per esempio la sirenetta dove vengono proiettati dei film non so non so se è finito se ieri c'era Ciprie e un maresco no lo so dico vengono proiettati dei film quindi riapre la sirenetta che sino a qualche tempo fa era impossibile riaprire perché mancava di tutti i permessi poi stranamente non capisco qual è il meccanismo per coprire parlo perché non so non perché voglio informare perché ahimè cerco di informare prima me stesso poi gli si consente di riaprire perché noi siamo sempre legati alla sirenetta Carmelo ci ricorda vecchi tempi quindi non è che possiamo parlare in negativo noi vorremmo che riaprisse io abitavo in via Pazienza appunto figurate io a 100 metri più lontano quindi vorrei che effettivamente la sirenetta riaprisse come ai vecchi tempi e quella zona là che era una zona incredibile ed ora è morta ero noasi ero noasi però è morta il bar del sole ti ricordo con Pino Abagnato una cosa incredibile invece loro che sono giovani non possono immaginare di che cosa parliamo tutta la borghesia palermitana ma tutti anche se i meno andavano a Mondello più che altro a mangiare polpo ricci ma ricordo che non era stata cementificata la costa dove c'erano le baracchie dei Polipari però ti dico i ricci che cosa rimane di manifesto tu che sei architetto mi puoi dare qualche delucidazione non capisco che cosa il dato di fatto più eloquente è che il comune di Palermo ha dato a manifesto per avere manifesto a Palermo credo circa 4 milioni di euro ora a fronte di questi di questa ingente insomma noi non troviamo 50 mila euro per sistemare i chioschetti di Ernesto Basile a Piazza Verdi e dico Piazza Verdi non è la periferia ma forse il cuore culturale tanto delle manifestazioni culturali di quest'anno sai cosa mi hanno risposto per il comune non ci ha rimesso nulla perché questi sono i soldi che pagano i turisti la tassa di soggiorno che pagano i turisti ma sempre denaro ma la tassa di soggiorno a parte il fatto che io sono contrario alla tassa di soggiorno dico ma intanto è sempre denaro pubblico lo stesso ragionamento ma tu devi andare per migliorare la viabilità, l'accoglienza ma nel caso specifico la tassa di soggiorno che venga utilizzata per ripristinare le patine dei monumenti la seconda cosa è che il denaro pubblico è una cosa che ho sempre contestato con il mio contesto le aziende, l'SPA con fondi al 100% fondi comunali il denaro pubblico va amministrato secondo le regole della pubblica amministrazione nel momento in cui tu lo dirotti in una fondazione in questo caso manifesta e poi sulla fondazione Sant'Elia di cui parlerò nei prossimi giorni perché sono state dirottate i fondi della regione sulla fondazione Sant'Elia la quale chiaramente essendo fondazione può fare quello che vuole allora se l'escamotaggio è questo che io comune non posso spendere una lira perché debbo sottostare a determinate regole all'approvazione del bilancio comunale a parte del consiglio comunale alle delibere di giunta alle determine dei dirigenti allora dirotto le somme in altri enti che non hanno tutti i nodi vengono al pettine Filippo perché se tu fai una cosa che sul momento ti va poi c'è qualcuno che è più in alto che controlla non so ma intanto è stato consentito è stato consentito da nessuno ancora la legge lo consente però poi ci sono abusi e potrebbero esserci degli abusi io credo che ti dirò di più io ho letto io rispetto sempre la buona fede delle persone sia una prova contraria non mi pronuncio no ma il sindaco è un buona fede però però alcune cose io non le farei io sono della vecchia politica e purtroppo la vecchia politica lascia forse perché abbiamo avuto paura di sbagliare lascia dei segnali che poi diventano saggezza io per una questione di saggezza non agirei in un determinato mondo io credo di aver letto tra l'altro in alcune carte che adesso manifesta chiude è noto tra un mese circa io credevo che dovesse cominciare per la verità la rassegna chiude penso tra ottobre e novembre però la fondazione per uno strano meccanismo dura anche nel 2019 per cui chi è dentro la fondazione percepirà dei degli monumenti ma non mi chiedo mi domando il motivo questo deve rispondere ma possibilmente spero di aver sbagliato possibilmente daranno una mano per aiutarci a fare le europee quindi per fare che so banchetti in strada per diffondere la cultura dell'Europa Unita possibilmente è questo ma non lo so senti parliamo della visita del Papa io ho avuto la fortuna di vederlo è passato sotto casa mia quindi si è scomodato pure in questo vedi è la forza quindi sotto la terra pulito sì no sotto da me è sempre sporco perché hanno tolto completamente l'operatore siccome è passato all'angolo di via Siracusa e via Villafranca ho 50 metri da casa mia ok e quindi io attendo il Papa una grande folla attendeva la perché non sono riuscito ad andare al Foro Italia con le mie condizioni di resistenza non sono tali per cui non ho potuto affrontare questa diciamo questa impresa per me quindi ho atteso che arrivasse e arriva sulla Papa Mobile fortunatamente perché poi se andò su una macchinetta pensavo che se andasse su un Coccardi perché questo Papa è capace di tutto o Monopattino Coccardi questo è capace di tutto fortunatamente lo vedo arrivare sulla Papa Mobile e ho questa immagine di questo gigante non perché fosse sulla Papa Mobile ma perché proprio era ti dava l'idea di un titano proprio di un gigante sorridente al massimo stanco una gioia incredibile si vedeva e che ti dà quella scossa quella tempesta emotiva che nella vita si prova raramente ebbene io l'ho provata io sono cattolico però ho visto che non bisognava essere cattolici non bisognava essere palermitani non bisognava essere siciliani bisognava essere là perché non si poteva perdere assolutamente quella grossa ventata di amore che spigionava il Papa sono d'accordo con te tu ti stai commuovendo allora non farei commuovere a me che io sono facile alla commuzione devo dire è incredibile cioè lui riesce a smuovere i sentimenti quell'umanità che manca da decenni nel mondo diciamo che di fronte e ha detto cose importanti importantissime che basterebbe seguire quello che indica lui ai politici per diventare i grandi tra una commuzione e l'altra perché non riesco ha bacchettato la chiesa in maniera proprio come posso dire talmente in maniera chiara che nessuno può avere dubbi sulla linearità di Papa Francesco i grandi maestri salvano le classi gli alunni la società il mondo lui è un grande maestro e ti devo dire mi commuove anche Don Corrado che l'ho rivisto più galvanizzato più insomma i problemi della chiesa sono enormi perché sono i problemi della società devo dire questo pure io cioè io non avevo un'idea molto positiva di Don Corrado anche perché si accompagna spesso a qualche politico io questa cosa non la condivido alla chiesa io sono per la separazione dei poteri nello Stato e soprattutto per la separazione del potere temporale della chiesa è quello appunto dello Stato quindi sono assolutamente però devo dire che questa volta non so che cosa gli ha immesso se gli ha fatto un'iniezione non so di che cosa il Papa però Don Corrado era quello che ci aspettavamo già due o tre anni fa quando è avvenuto la prima volta ricordo se ti posso dire che succede pure all'uomo qualunque chiamiamolo così per esempio a me se io sto con persone disinteressate che non ti stimolano appena arrivo a parlare per esempio oggi qua sono già un vulcano però tu mi freni e io mi devo stare zitto e poi succede questo arriva in senso assoluto un grande maestro che è un grande uomo che è un grande Papa e allora tutti ci svegliamo che ho visto le persone di una commosse commosse così io ero là poi a un certo punto vista l'età sono tornato a casa Danilo tu che sei tu da giovane noi insomma più anziani siamo facili alla commozione alle lacrime ma io credo che tanto Papa Francesco dato che parliamo di contemporaneità quanto ad esempio un'altra figura spirituale importante del nostro contemporaneo penso che sia il Dalai Lama hanno questa capacità di lanciare un messaggio positivo che va oltre i credenti nello specifico appunto che si sia cristiani o di altra professione che è quello di poter appurare con mano che le persone fanno la differenza cioè Papa Francesco noi lo seguiamo in quello che dice e come dici tu gli diamo questa aura di maestro proprio perché gli riconosciamo dei valori evidenti e gli riconosciamo una carica carismatica che non prescinde dalla persona lui o un altro Papa non sarebbe la stessa cosa lui era purtroppo il tempo è finito vorrei ricordare Benedetto XVI che non è da meno no no però dico Benedetto XVI diciamo l'ultima cosa che chiudiamo molte volte ci siamo chiesti come mai hanno eletto Papa questo Papa Bergoglio ecco la risposta è evidente oggi si oggi si è evidente lui non ha voluto fare il Papa prima poi è arrivato nel momento opportuno io ho sempre detto peccato perché già a una certa età io lo avrei voluto Papa molto molto tempo mi sognerebbe riveliare a Bemus Papa che è un film stupendo ci dobbiamo fermare lo ringraziamo insieme e chi ha lavorato per fare questo grande evento dalla Zulia buonasera ai volontari arrivederci per fare Grazie a tutti.